Ciao e benvenuto sul mio canale YouTube. Questo è il mio primo video e non a caso ho scelto di parlare di un argomento che per me negli ultimi mesi è stato molto importante. Dopo aver scoperto un problema di salute ho iniziato a concentrarmi su qualcosa che non era legato solo ai classici allenamenti che facevo in settimana, quindi legati proprio al calisthenics, quindi tutto programmato, preciso, fai queste serie, quelle ripetizioni, raggiungi quella skill, quell'obiettivo, ma ho iniziato a dare importanza a qualcosa di diverso. Sto parlando di una routine di movimento, quindi nella mia routine mattutina che mi sono fissato mi prendo 10 minuti per muovere il mio corpo, nel mio caso appena sveglio appunto. Ho visto che è una cosa che diventa fondamentale, ci sono dei segnali che il nostro corpo ci manda ma spesso noi non lo ascoltiamo e quindi voglio aiutarvi facendovi vedere 5 esercizi che potete fare tutti i giorni. Sono solo un esempio ma vi faccio vedere quelli che per primi ho adottato e vi permetteranno di compiere dei movimenti basilari per il nostro corpo legati alla colonna vertebrale e al centro del nostro corpo, quindi il bacino e le anche. Vedremo flessione, estensione e torsione della colonna e appunto dei movimenti che ci permetteranno di mobilizzare le anche e il bacino. Iniziamo subito! Il primo esercizio che vi propongo per quello che riguarda la flessione e l'estensione della colonna è il famoso gatto mucca. Dobbiamo metterci in posizione di quadrupedia. Partiamo allontanando tra di loro le scapole, alzando le spalle e mandando in retroversione il bacino, quindi fargli fare questa rotazione cercando di allontanare il più possibile tra di loro le scapole, usare la massima escursione che il nostro corpo ci permette per poi passare nella posizione opposta, quindi inarcando forte la schiena, abbassando le spalle, avvicinando le scapole e guardando su. Cerchiamo di renderlo fluido. Possiamo aumentare la difficoltà staccando le ginocchia da terra, quindi facendo la stessa cosa con un carico più intenso, quindi flessione, estensione, flessione ed estensione. Il secondo esercizio che vi propongo invece riguarda la torsione della colonna. Ci rimettiamo in posizione di quadrupedia con le mani sotto le spalle, cerchiamo di piegare il braccio e con l'altro passiamo sotto fino a far appoggiare a terra la spalla. Cerchiamo di andare a cercare con le dita qualcosa di fronte alla nostra faccia. Poi da questa posizione stendiamo il braccio e portiamo la mano verso il soffitto, verso il cielo. Andiamo sotto, eseguiamo questo movimento una decina di volte, per lato. Invertiamo, stessa cosa. Passiamo sotto, allarghiamo il gomito e poi andiamo sopra. Cerchiamo di concentrarci sull'apertura del petto e la torsione appunto della colonna. Facciamo seguire con lo sguardo la mano. Il terzo esercizio che vi voglio far vedere è il tavolo ed è una posizione che ci permette di mandare in estensione le spalle, quindi lavorare sulla mobilità delle spalle, sull'inarcamento della parte toracica della colonna e sulle scapole, sull'avvicinamento delle scapole, quindi è un movimento di apertura. Possiamo tenere le mani con le dita rivolte verso l'esterno, in avanti oppure dietro. Sentirete una tensione diversa sul bicipite. Inizialmente fate quello che vi fa sentire più comodi a vostro agio, senza dolore. Buttiamo indietro le spalle, le abbassiamo, avviciniamo le scapole, apriamo il petto e cerchiamo di sollevare il bacino fino ad arrivare in questa posizione. Lo possiamo fare statico, quindi rimanere in questa posizione per 30 secondi, ad esempio, oppure arrivarci in maniera dinamica, quindi abbassando e sollevando il bacino. L'importante è aprirsi e non rimanere in questa posizione con le spalle in avanti, il petto chiuso. Se è troppo difficile ci limitiamo a sollevare meno il bacino, quindi arriviamo in questa posizione e ci fermiamo. Inizialmente magari potrebbe fare al caso nostro questa posizione, non sforziamoci. Quando invece diventerà facile magari questa posizione potremo addirittura stendere le gambe, rimanendo sempre aperti con le stesse attivazioni. Stringiamo i glutei, non sovraccarichiamo la lombare. Passiamo ora alla parte centrale del nostro corpo, quindi al bacino e alle anche e in questo quarto esercizio vi faccio vedere una posizione dinamica che potete fare appunto sul pavimento. vi chiederò di portare una gamba con il ginocchio piegato a 90 gradi, il busto rivolto frontalmente al ginocchio e l'altra gamba allo stesso modo anche lei a 90 gradi. Il piede è in linea con l'altro. Ci ritroviamo in questa posizione con il busto dritto. Appoggiate la mano per terra, questo se è la prima volta che l'ho provato a fare. Quindi partendo da questa posizione switchiamo proprio la posizione delle due gambe, quindi appoggiamo l'altro ginocchio davanti a noi e l'altro di fianco a noi ruotando il busto, quindi ci ritroveremo nella stessa posizione invertita. Appoggiamo la mano, ci aiuta a girarci, busto dritto. Quinto ed ultimo esercizio di questa routine di movimento da fare tutti i giorni è uno squat nella posizione di horse stance. Quindi ci ritroviamo con le gambe divaricate. Usate la massima divaricata che vi permette di fare l'esercizio senza avere dolore. Quindi piedi rivolti frontalmente, ginocchia che vanno verso l'esterno quando scendiamo e mai verso l'interno così a crollare. Mettiamo le mani sul bacino, petto in fuori, schiena dritta, lombare quasi inarcata. Scendiamo e risaliamo. Anche qui lavoriamo per 30 secondi. Sentirete tensione sulle anche ed è assolutamente normale. Se non sentite nulla potete aumentare la divaricata. Mantenete in tensione i muscoli delle gambe. Se invece fosse troppo difficile, al contrario, riduciamo la stanza. E diventa più simile a uno squat, ma ognuno partirà dal suo livello. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto ti sia utile e ti sensibilizzi a gestire il tuo corpo in maniera diversa e dare importanza dei movimenti quotidiani. Quindi se riesci a fare al mattino questa routine sarebbe perfetto. Prenditi quei dieci minuti perché sono sicuro che se vuoi farlo lo puoi fare e cerca di ascoltare il tuo corpo mentre fai questi movimenti e ascolta il beneficio che sentirai dopo averli fatti. Vedrai che sarà come una droga e non riuscirai più a smettere e sentirai il bisogno probabilmente ogni mattina appena alzato al letto di fare questo tipo di movimenti. Questa routine è ovviamente solo un esempio. Ci sono tanti movimenti, tanti esercizi da poter svolgere e questi sono tra i primi che ho utilizzato, ma le combinazioni sono infinite e soprattutto si può anche allungare questa routine. Se il video quindi ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti al canale e condividilo con i tuoi amici o a chi pensi possa essere utile. Fammi sapere nei commenti se hai qualche dubbio o se vuoi altri video di questo tipo e noi ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao e buon allenamento!